Gennaro, dopo due partite con due pareggi, arriva questa gara con il Brescia, vicecapolista del campionato, la formazione più in forma del momento, che schiera in attacco il capocannoniere del torneo. Gara ad alto coefficiente di difficoltà. Sicuramente è una partita tosta, una partita da preparare ai minimi dettagli e sappiamo di affrontare una squadra in salute, una squadra forte, dove ci sono tanti giocatori forti e poi c'è Donnarumma che ha fatto tanti gol, ma c'è da dire anche che Torregrossa fa un lavoro per la squadra grandioso e poi mette in condizione Donnarumma di fare gol. Ci sono giocatori importanti dall'altra parte, sappiamo di affrontare una squadra forte e quindi ci prepareremo sicuramente al meglio per affrontare questa gara. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo stare attenti perché sappiamo di affrontare giocatori forti, una squadra importante, ma sono sicuro che noi faremo la nostra partita. Quando non subisci gol non è solo merito della difesa, ma anche degli attaccanti, dei centrocampisti che sui calci piazzati comunque fanno parte della difesa e ci aiutano, quindi è merito anche loro e anche di Fiorillo che in questo momento ci sta dando una grossa mano. Gennaro, in questa parte di campionato, partita dopo partita, ti stai guadagnando il posto da titolare? Ogni giocatore spera di giocare sempre, però quello va dimostrato giorno per giorno. Io cerco di impegnarmi al massimo durante la settimana per far sì che posso dare sempre il massimo anche in partita. Giocherete domenica con il Brescia a mercato chiuso, qualcuno direbbe era ora? Il mercato fa parte del gioco, quindi tutti noi sappiamo che c'è questa fase di mercato, magari qualcuno è più coinvolto, qualcuno meno coinvolto, ma quando ci sono le partite io non penso che un giocatore pensi al mercato, penso solo a giocare e a fare una buona prestazione.